Questo video è per rendere omaggio a una delle categorie di persone più maltrattata. Probabilmente la più maltrattata e discriminata di tutte. Infatti nessuno in giro ammette mai di far parte di questa categoria e si offendono pure se ipotizzi che invece vi facciano parte. Si incazzano proprio e vi denunciano per diffamazione oppure vi menano. Questa categoria è la categoria della gente normale. Io invece dico viva i normali. Che meraviglia essere normali. È la cosa più bella e normale del mondo. Anche se in realtà non c'è niente di più normale che sentirsi speciali. I normali sono le uniche persone sopportabili. Prendete i brutti per esempio. Che sono convinti pure di essere belli dentro. Non è vero. I brutti spesso sono brutti pure dentro. Fanno finta di no ma sotto sotto odiano tutti. E aspettano l'occasione di sfogare tutto quest'odio. Proprio su di voi che gli date retta. E i belli. I belli già sono insopportabili da belli. Figuratevi quando dopo qualche anno diventano pure brutti. E viva i normali dico io. Che non sono né grassi né magri. Sono magri sulle braccia e sulle gambe. E sono grassi sulla pancia e le guance. Va benissimo così. Che poi i grassi se mangiano de tutto. E poi vogliono sempre pagare alla romana. I magri pure vogliono pagare alla romana. E se mangiano de tutto pure loro. Anche se hanno un metabolismo strano che non si ingrassano. Proprio per quello se mangiano de tutto. Maledetti siano pure gli ubriaconi e pure gli astemi. Che stanno sempre lì a vantarsi di non bere. È facile vantarsi di quello che non si fa. Il difficile è fare per bene quello che si fa. Allora ci si potrebbe vantare. Bere ma con moderazione. Come fanno i normali. Loro sì che sanno godersi un buon bicchiere di vino. Ma sanno anche quando fermarsi. Cioè alla seconda o terza patente ritirata. Viva i normali. Che non sono né di destra né di sinistra. Ma sono capaci di fare una cosa incredibile. Di cambiare opinione. Che non l'hanno deciso all'elementare. Se tenere per la destra o la sinistra. E non hanno mai cambiato idea. E vanno regolarmente a votare ogni volta. Cercando di scegliere il meno peggio. E gli stupidi. Gli stupidi non sono normali. Sono insopportabili. Eppure gli intelligenti. Gli intelligenti sono pure peggio degli stupidi. Anche perché per gli intelligenti. Lo stupido sei tu. E non mancano mai di fartelo sapere. E i poveri. Ma chi li sopporta ai poveri? Basta con sta l'anghia. Con sto orgoglio dell'essere poveri. Non è vero che il regno dei cieli sarà degli ultimi. Gli ultimi saranno probabilmente ultimi. Ma certo che se siete poveri siete dei boccaloni. E credete a tutto. Anche per questo siete poveri. I poveri credono sempre in qualche alta sciocchezza. In Dio, nel comunismo, nell'oroscopo, nelle filosofie orientali. Crederebbero a qualsiasi cosa pur di credersi meglio degli altri. Ma la verità è una sola. Ed è molto semplice. I poveri vorrebbero i soldi. Pensano solo ai soldi. A quelli che non hanno e a quelli che vorrebbero. Lo so per esperienza. Certo, comunque sempre meglio poveri che ricchi. I ricchi sono le persone più depresse del mondo. Odiano la vita. I ricchi si suiciderebbero proprio se non fosse che odierono la vita. Proprio perché si muore. Hanno tutto quello che si potrebbe desiderare. Anche l'amore. Perché se non sei scemo e hai soldi trovi pure l'amore. Ne trovi anche 3, 4, 5, 6, tutti quelli che vuoi. Non sono proprio amori sinceri sinceri. Ma dove non arriva la qualità arrivi la quantità. I normali invece hanno un pacato rapporto con la depressione e la morte. E anche con l'amore. I normali sanno amare. Ma sanno anche amare qualcun altro se le cose non vanno più. I normali scherzano sui propri traumi e sulle proprie paure. Senza bisogno di andare dallo psicologo ogni lunedì pomeriggio. Se cercano di rimorchiare una ragazza, i normali provano a farla ridere. Non le raccontano una trafira di disgrazie. Non si atteggiano traumatizzati oppure a maschi alfa. Magari i normali hanno tutta una raccolta di barzellette. Che magari non fanno ridere. Ma almeno ci provano. Viva i normali. I normali che hanno sogni normali. E se non li hanno normali ci provano lo stesso a inseguire i loro sogni speciali. Ma a un certo punto sanno pure rinunciarci se le cose non vanno come vorrebbero. Senza troppi drammi. Senza traumi. Senza lottura dei coglioni. Viva i normali. Quelli che sono uomini se sono nati uomini. Che sono donne se sono nate donne. I normali non credono in Dio perché Dio non esiste. È chiaro. Ma credono che comunque forse ci sarà un'altra vita proprio come abbiamo questa. E intanto qualsiasi cosa accada vivono la vita che hanno. Poi semmai nella prossima vita si vedrà. I normali riescono ad affrontare le sciagure della vita senza diventare cinici o mammolette. Senza diventare delle incommensurabili rotture di coglioni. Viva i normali. Avremmo tanto e tanto e tanto da imparare da loro se solo ce ne fosse rimasto qualcuno in giro. Se lo troviamo facciamogli una statua. Ma una piccola eh. Una normale.